Ha avuto esito positivo l'incontro tra i presidenti dei sei quartieri e i vertici di Messina Ambiente, presenti l'ingegnere Natale Cucecchi, direttore del personale, il commissario liquidatore Alessio Sciacci e la direttore di servizio Chetano Munnia. Accolta la proposta avanzata dalle circoscrizioni che hanno chiesto l'assegnazione di 24 operatori, 4 per ogni quartiere. I dipendenti di Messina Ambiente dovranno occuparsi degli interventi di spazzamento, scerbature e pulizia straordinarie e direttamente su indicazione dei singoli quartieri. Realisticamente il nuovo servizio sarà operativo da gennaio. Nei prossimi tre mesi infatti l'azienda punta a reperire dei locali di proprietà del comune, uno in ogni circoscrizione, in cui gli operatori potranno conservare l'attrezzatura necessaria e timbrare con il proprio beige, come avviene attualmente nel deposito collocato sotto il cavalcavia. Una sede angusta e decentrata se si pensa che anche chi opera a Castanea paradossalmente deve recarsi a inizio e a fine turno nei pressi di Via Don Blasco. Il primo quartiere ha proposto la sede della Mamamili, il secondo lo stadio San Filippo che già ospita la Polizia Municipale, la terza l'autocentro di Via Salandra, la quarta la vecchia scuola Iuvara di Piazza Casapia, il sesto due locali a Pace e Ganzirri, il quinto l'ex scuola Foscolo di Via Palermo che potrebbe peraltro divenire la nuova sede degli uffici amministrativi di Messina Ambiente. L'azienda lascerebbe così via Dogali dove peraltro sborsa una consistente canone d'affitto dal momento che i locali sono di proprietà di privati. Il servizio decentrato rappresenterebbe una piccola rivoluzione garantendo operatori più vicini al territorio, meno tempi morti e un abbattimento dei costi di trasferimento dal momento che mezzi e dipendenti hanno fin qui utilizzato come unica sede di partenza il deposito collocato sotto il cavalcavia con l'inevitabile aggravio di spese per un'azienda già sull'orlo del fallimento.